Scalava la sua evoluzione verso la comprensione di se stesso. Di solito un giornalista freelance non possiede una jeep della seconda guerra mondiale. I pezzi di ricambio sono introvabili anche a Milano. Provvedeva lui stesso alla manutenzione, aiutato qualche volta da un amico. Trascorreva ore la domenica, disteso in tuta sotto la jeep o sprofondato dentro il motore. Aveva rinforzato le sospensioni delle ruote anteriori e grazie alle sospensioni delle ruote posteriori ad assale rigido, la jeep prendeva le curve con una dignitosa stabilità. Subito dopo aver acquistato la jeep, il freelance l'aveva riverniciata con la sua tinta originaria con cui ricordiamo i soldati americani che arrivarono nelle nostre città liberate. Con la cura che aveva per la jeep il simbolo del suo amore per l'America, il freelance scalava la sua evoluzione verso la comprensione di se stesso. Quando l'ondai a trovare a casa sua, si stava preparando due uova strapazzate. Mi sedetti in una comoda poltrona e gli dissi «Come va la jeep?» «La settimana scorsa mi ha dato dei fastidi, ma adesso l'ho riparata.» «Certo che tu in America devi avere avuto un'incarnazione molto significativa», dissi. «Perché?» «Perché il tuo amore tenace per la jeep mi sembra una reminiscenza, un ricordo non della mente, ma della coscienza, un riflesso di vite precedenti.» «Ma tu credi veramente alla reincarnazione», disse il freelance mentre mangiava avidamente le sue uova strapazzate. «Per adesso sì.» «Perché per adesso?» «Perché già intuisco che tutto il discorso delle vite è un discorso in fondo illusorio, perché parla del divenire.» «Noi ci immergiamo nella materia soltanto teoricamente, ma nella realtà siamo degli attori che recitano la parte di cui hanno bisogno nel teatro della condizione umana. Ma alla fine, chi ha bisogno della nostra esperienza che noi viviamo soprattutto con la mente? Ne ha bisogno la nostra coscienza che resta nei piani alti dell'essere. Biondo occhi azzurri come un americano, il freelance finì le sue uova strapazzate e mi chiese scettico. Allora le reincarnazioni non esistono. Io mi voltai verso di lui con un sorriso sicuro. Dal punto di vista dell'umano le reincarnazioni esistono e come, ma esistono nel divenire. Come il piatto vuoto che hai dinanzi e la jeep che ami tanto. Ma la coscienza, che ha bisogno di esperire molte vite, esiste nell'essere. Grazie. 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 Grazie.